Ciao, il mio nome è Davide e lavoro a Nairobi per RC4Shield. In questo momento senza di te non possiamo farcela. Le famiglie che vivono nelle baraccoppoli sono stremate dalla crisi elementare che ha messo in ginocchio le persone che risiedono negli slums. Stiamo facendo il massimo per rispondere all'emergenza, ma è impossibile prevedere questo lunghissimo lockdown e le conseguenze devastanti ed irreversibili. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, adesso più che mai.